popolo buongiorno allora prima che inizio a mangiare fare la mia bella colazione di rumela riso latte eccetera mia figlia mi dirà mamma ma che schifo e lo so io sono cresciuta così con la tipo con le stelline con il latte dolce tutto dolce o riso latte comunque prima di iniziare a mangiare volevo dire questa cosa che è molto importante nel momento in cui mangiate di stare lì a mangiare solamente cioè nel senso non distrarvi con il telefonino la televisione perché poi il nostro cervello non percepisce il senso di sazietà e dopo un po avete fame di nuovo perché il nostro cervello affinché le informazioni che state mangiando arrivano dopo 20 minuti quindi se vi distraete con altre attività che implicano l'uso dei nostri belli neuroni il cervello non percepisce che voi state mangiando quindi datevi un'informazione alla volta diventate dei trogluditi per 10 minuti 20 minuti quanto ci mettete a mangiare così il nostro cervello percepisce il senso di sazietà e poi non abbiamo più così famina sempre buona giornata